Dal balcone della sua abitazione spazzatura? Sì, questo è quello che io vedo costantemente da meno di dieci anni a questa parte. L'anno voluto a maggio però è tutto tornato come prima. Qua il sindaco di Messina senza scappi non potrà mai camminare. Dal balcone di casa panorama sull'abbandono e sulla spazzatura nella vana speranza che al di là degli interventi sporadici di pulizia la riqualificazione prima o poi si concretizzi. A dominare visivamente l'antico e suggestivo borgo del tirone di Messina c'è sempre quel palazzo pericolante di proprietà del terzo ordine francescani occupato abusivamente da famiglie in gravi difficoltà economiche che buttano la spazzatura su un'area di grande pregio storico. E così anche le antiche mura della città risalenti alla dominazione spagnola rimangono tra rifiuti e sterpaglie. Un'ordinanza del sindaco Renato Accorinti obbligava i fratti proprietari ad occuparsi della pulizia dei luoghi e successivamente a murare l'accesso dell'edificio a tutela della pubblica incolumità ma le porte sono rimaste aperte. Nessuno si occupa di aiutare le persone dentro l'edificio e la spazzatura torna ad accumularsi. Il consiglio del quarto quartiere presieduto da Francesco Palano Quero ha sollecitato interventi e soluzioni ma il tirone rimane ostaggio della burocrazia in un limbo di competenze pubbliche e interessi privati ed oggi intervengono i consiglieri Daniele Travisano e Giovanni Caruso. Ormai è passato quasi un anno dalla famosa ordinanza che avrebbe dovuto porre fine ai disagi del tirone e quindi porre inizio alla riqualificazione dell'aria. Purtroppo questo non è avvenuto. Il terzo ordine è intervenuto per la bonifica in un primo momento dell'aria ma purtroppo la fase nella quale avrebbe dovuto murare il varco di accesso dell'edificio non è stata portata a termine. Quindi ovviamente ci sono ancora dei famiglie all'interno dell'edificio che gettano l'immondizia nel terreno del terzo ordine. È impensabile che in una zona come questa, pochissimi metri dal centro, dalle scuole, dal tribunale, insomma, versi in queste condizioni, le immagini parlano chiaro, noi col consiglio, con tutto il consiglio in modo forte, energico, abbiamo più volte sottoposto agli organi dei posti il problema. Si è riuscita ad intervenire con una bonifica, sono state tolte dalle baracche però purtroppo non si è poi dato seguito all'ordinanza come prima Daniele ha sottolineato. Attendiamo da parte del sindaco e dell'amministrazione delle risposte forti.